Reggio Calabria, maxi operazione antindrangheta, 52 arrestati e altri 23 indagati. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 52 persone ritenute appartenenti e contigue alla cosca di indrangheta paviglianiti dei comuni di San Lorenzo e Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria stanno portando a termine l'operazione Ultima Spiaggia. Tra i reati ascritti ai soggetti colpiti dal provvedimento ci sono associazione mafiosa, concorso in associazione mafiosa, truffa aggravata ai danni dello Stato. Nel corso delle attività investigative è stato accertato come il comprensorio dei comuni di San Lorenzo e Bagaladi, forse interamente sotto il controllo della cosca paviglianiti, consolidata ed importante organizzazione criminale della fascia ionica della provincia regina, della quale è stato ricostruito l'intero organigramma con l'individuazione dei ruoli dei singoli affiliati.